I cantieri di Bombolo, Nottambuli, Azzurri e Rustici sono pronti a mostrare le loro gigantesche creature in cartapesta. A Fogliano della Chiana torna infatti il carnevale più antico d'Italia che nel borgo in provincia di Arezzo è giunto con il 2019 alla sua 480esima edizione, 5 domeniche di festa dal 10 febbraio al 10 marzo durante le quali le vie del paese saranno teatro dei festeggiamenti in onore di Reggio Condo, il patrono della manifestazione e in attesa del verdetto finale per decretare il vincitore tra i quattro quartieri in gara con vere e proprie opere di cartapesta. Il programma partirà tuttavia già da sabato 9 febbraio con tante iniziative collaterali. I temi dei quattro carri alle godici che cominceranno a sfilare domenica 10 febbraio saranno svelati giovedì 7 febbraio. Il carnevale più antico d'Italia è considerato tra le più importanti manifestazioni del genere in Italia sia per le spettacolari coreografie sia per la sua tradizione storiografica. Ovviamente adesso cresce l'attesa per scoprire quali saranno i colori e i soggetti rappresentati ovviamente in forma allegorica dai veri e propri maestri della cartapesta e della meccanica.